Sono molto contento, sono tre anni che faccio parte di questa associazione, ho trovato veramente un bel ambiente, oltre che il livello dei campionati abbastanza alto, anche l'amicizia che si è creata, il gruppo che si è creato tra noi che andiamo a dirigere le gare è fondamentale per il prosieguo e per avere dei risultati. Devo dire che mi sono trovato bene da subito e sono molto contento di far parte di questa grande famiglia. Sono molto contento di poter essere via a fare gli auguri a tutti, a tutti quelli che con una passione che ci mettono tutte le sere sono in giro per i campi, sia i giocatori che i dirigenti che gli arbitri che vanno a dirigere queste partite. Colgo l'occasione per fare un augurio di un buon Natale e di un felice anno nuovo a tutti con la speranza di ritrovarci sui campi più vogliosi di prima. Bene, auguri a tutti! Bene, auguri a tutti!